Nuova ondata di cassa integrazione per la Fiat di Termoli. Questa volta lo stop produttivo riguarderà una larga fetta di operai, circa 1.500. Il settore 16 valvole si fermerà dal 25 febbraio al 2 marzo. Stop più lungo invece per il reparto cambio C520 dal 19 febbraio al 2 marzo. La decisione è arrivata dal comitato esecutivo per fronteggiare gli effetti della temporanea contrazione delle attività tenuto conto della transitoria situazione di mercato. Lo stop produttivo prolungato ha messo in allarme i dipendenti e preoccupa anche i sindacati, tanto che la Wilma ha già annunciato che il 2019 sarà segnato da un uso pesante di altra cassa integrazione, ma che potrebbe anche essere l'anno della trasformazione dello stabilimento che si prepara all'arrivo dei nuovi prodotti. I dubbi però restano e il timore cresce anche per le conseguenze che l'ecotassa voluta dal governo potrà avere proprio sullo stabilimento FCA di Termoli, dove si producono diversi motori che sarebbero colpiti dal balzello. Il timore maggiore che l'ecotassa rischi di rimettere completamente in discussione gli investimenti previsti per Termoli dall'amministratore delegato Manley, che nello scorso novembre aveva annunciato il nuovo modulo produttivo per l'azienda di contrada rivolta del Re per i motori ibridi. Ora sono crollate tutte le certezze in azienda l'aria è pesante. Il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, si è detto seriamente preoccupato e quella che poteva essere una tassa anche meritoria per certi aspetti, in realtà calata al nostro contesto si sta rivelando critica commentato insieme ai consiglieri Salvatore di Francia e Michele Barile, dipendenti dello stabilimento di Termoli. Noi vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica e tutta la parte politica che oggi è al governo perché credo che è il governo che debba porre dei rimedi a questa ecotassa che è stata inserita e che seppur diciamo in senso astratto è una cosa diciamo che può essere proposta, valutata e anche accolta ma in questo periodo non poteva esserlo perché si doveva aspettare l'attuazione del piano industriale della Fiat. Io credo che dobbiamo essere pragmatici nelle questioni perché altrimenti ma non solo nello stabilimento di Termoli ma anche in altri stabilimenti d'Italia potremmo avere, uso il condizionale, potremmo avere delle piccole crisi del personale e dell'occupazione. I consiglieri hanno confermato la preoccupazione che si vive in azienda. Barile ha spiegato ad esempio che l'ecotassa colpisce alcuni dei motori di grossa cilindrata che si producono per la Giulia e la Stelvio e quindi il 2000 T4 e il 3000 V6 ma anche il 16 valvole che monta la nuova tipo. Di Francia ha aggiunto che la Fiat è sempre stata in crescita ma che se le cose vanno male deciderà di spostare altrove gli investimenti e infatti dai rumors interni sembra che proprio sugli investimenti previsti siano già in programma dettagli. Una situazione in chiaroscuro intanto allo stabilimento di termoli perché se da un lato è stata annunciata cassa integrazione dall'altro si continua ad assumere. Dal primo febbraio infatti verranno stabilizzati i 16 contratti in scadenza che passeranno a tempo indeterminato.